Il 22 ottobre ci sarà l'open day della scuola di naturopatia è un incontro a cui io tengo tantissimo in cui vi parlerò di che cosa si intende per olismo e quali sono i codici su cui costruite la nostra scuola voi sapete che più di 5.000 naturopati sono usciti in questi anni dai nostri corsi e che la scuola di naturopatia rappresenta una realtà da tanti anni consolidata e sono tanti naturopati che hanno aperto le loro attività in associazioni insieme e che seguono quelle che sono le caratteristiche che hanno imparato presso i nostri corsi vorrei dire tre cose importanti e di questo parlerò nel giorno dell'open day che olismo vuol dire che anche se c'è un massaggio anche se stiamo facendo un'attività fisica anche se stiamo consigliando dei metodi di dimagrimento o dei preparati arboristici anche se noi stiamo facendo un'attività di naturopatia noi dobbiamo sempre tenere presente che la mente deve accompagnare le nostre tecniche operative gli stati di coscienza gli stati mentali influenzano profondamente tutti i meccanismi della deambulazione tutti i disagi psicosomatici e che il colloquio con chi viene da noi è fondamentale la seconda cosa è che il naturopati è un operatore del benessere non è un medico e devo dire che in tanti anni rispettando i codici del naturopata come gli ha scritti il legale dell'ordine dei medici a cui ci siamo rivolti nessuno dei nostri naturopati ha avuto mai un problema quindi questo è molto importante a tenersi alle regole della relazione col cliente che va strutturata secondo certe caratteristiche la terza cosa che per me è la più importante di tutti è il benessere la cosa che mi fa più piacere dei nostri corsi è che le persone che li hanno frequentati quelli che poi sono diventati naturopati tutti mi hanno detto che il corso gli ha regalato un modo diverso di stare in campo con se stessi un modo diverso di lavorare coi clienti un modo diverso di fare i massaggi un modo diverso di parlare ma più di tutto un modo diverso di vivere dentro di sé il benessere io una cosa che dico spesso è che quando noi siamo in conflitto quando siamo in lotta con noi stessi quando siamo tormentati noi trasmettiamo le persone che vengono da noi per un aiuto noi trasmettiamo il nostro tormento e quindi un buon naturopato come un buon psichiatra come un buon medico per prima cosa come diceva jung deve lavorare su di sé ed è più semplice di quello che si pensa per evitare di vivere nel conflitto una mente tranquilla equilibrata pacata serena trasmette automaticamente meccanismi di salute tenete presente che di tutti i farmaci più del 35 per cento l'effetto fondamentale è l'effetto placebo e grande diceva e jung lo ripeteva che l'effetto terapeutico l'effetto terapeutico arriva a risultati quasi dell 80 90 per cento semplicemente con la presenza di un terapeuta di un naturopata di un medico insomma di una figura che ha l'armonia interiore quindi il nostro corso è fatto sì per formare operatori del benessere ma operatori del benessere che vivono dentro il cellulismo e l'armonia interiore vi aspetto vi ricordo che la partecipazione gratuita all'open day ma che occorre prenotare buona giornata a tutti e vi aspetto all'incontro